buongiorno buongiorno a tutti e bentornati qui su gaming galaxy oggi video statico un giorno non vi faccio vedere niente di di video quindi lo so che vi romperò le scatole ma è un video molto lungo almeno per me nella nella costruzione quindi cercherò di essere il più preciso veloce e schematico possibile quindi se avete bisogno di qualcosa vi lascio la leggenda ad ogni inizio mappa quindi quando vedrete la mappa nello schermo ci saranno anche la leggenda di quello che avrà il bisturi di leggendario al proprio interno e quindi se vi interessa potete andare a vedere dov'è la mappa dove il bisturi che vi interessa andare direttamente a prenderlo quindi iniziamo subito ricordatevi come sempre di iscrivervi al canale o se no vi porto dal bisturi e vi faccio tagliuzzare la sotto quindi ricordatevelo ricordatevelo bene primo bisturi iniziamo da north side esattamente la locazione praticamente al centro di north side dovremo andare dal nostro amico cassius che è quello maccione pieno di tatuaggi con gli occhiali che cosa avrà cassius beh a cassius avrà le cortecce centrali le cortecce scusatemi frontali leggendarie avrà il nucleo meccatronico che avrà bisogno di 16 capacità tecniche per essere equipaggiato e lucidi e cura qui servirà 18 di riflessi per equipaggiarlo e chiaramente anche questo è leggendario secondo bisturi dobbiamo andare a pacifica e teletrasportarci agli appartamenti di west wind il bisturi è proprio lì accanto quindi non ci vorrà molto è il nostro amico di colore con questa bellissima divisa bianca che è veramente belle non la vorrei anche io veramente figa che cosa di bello beh sempre per quanto riguarda il potenziamento del sistema limbico avrà il disco ex che servirà 18 di intelligenza per equipaggiarlo il supporto corteccia visiva che si servirà 16 sempre di intelligenza la gestione ram camillo sempre 16 di intelligenza per equipaggiarlo e avrà per quanto riguarda invece la nostra chiavettina quindi all'interno del nostro cervello avrà la stefenson tech mk4 che ha 10 ram di base 8 dimensioni di buffer e 6 slot e il fujutsui tinkerer mk3 non chiedeteli come cazzo si pronuncia io lo pronuncete così che ha 8 ram di base 7 dimensioni di buffer e 6 slot bene terzo bisturi come andiamo veloce si ritorna a watson bisogna andare a breadbully and baran il bisturi è proprio lì accanto e ovviamente è il primo bisturi quindi è victor il primo bisturi che abbiamo incontrato in cyberpunk che cosa avrà lui di bello vabbè avrà la nostra chiavettina del san devistan dailanar mk4 e il link smart quindi avremo la possibilità di avere il link smart leggendario direttamente da victor stesso quinto se non sbaglio è il quinto giusto si dovrebbe essere il quinto quinto bisturi si va dagli aldecado quindi si va nelle badlands al al bisturi di aldecado ovviamente a due posizioni dipende dalla stare in cui siete voi se vi siete fatti o meno panam e quindi potrebbe essere in due posizioni differenti l'accampamento di aldecado ve le lascio entrambe nella mappa andremo dal nostro amico nomade e per quanto riguarda il nostro amico nomade troveremo tre cose per il sistema circolatorio quindi la pompa per sangue che serve 16 di fisico per essere equipaggiato il biomonitor che servirà 18 di fisico per essere equipaggiato e il bioconduttore che servirà sempre 18 di fisico per essere equipaggiato next torniamo a watson di nuovo watson è pieno di bisturi tra le altre dobbiamo andare dove abbiamo incontrato la nostra prima netrunner quindi dal mercato di kabuki il bisturi è esattamente sotto lo potete vedere nella mappa è leggermente complicato arrivarci ma niente di che è nel mercato in pratica in fondo al mercato che cosa avrà di buono il nostro amicone o maccione ebbene avrà il sistema tegumentario quindi avremo la possibilità di metterci l'armatura subdurale leggendaria questa non richiede praticamente nulla per essere inserita ed è molto molto figa per quanto riguarda invece la chiavettina avrà il berserk quindi la mk5 berserk che serve 18 di fisico e il raven micro cyber mk4 che ha 10 run di base 8 dimensioni di buffer e 6 slot next round santo domingo bisogna andare giù giù nei suborghi di santo domingo dovremo andare al l'agrevest street ad agrevest street mica come sono ignorante a dire queste cose comunque lo vedete nella mappettina e il bisturi è leggermente distante perché in realtà non c'è un teletrasporto lì nelle vicinanze andremo giù dal nostro bellissimo bisturi che sarà sempre seduto con la sua aria imbronciata e molto mistica sinceramente molto figo comunque avrà acceleratore sinaptico quindi la neofibra che serve 18 di riflessi per essere equipaggiata il kerenzikov che sembra sempre 18 di riflessi per essere equipaggiata e come chiavettine all'interno del nostro crani avrà sempre il berserk mk4 da poter essere comprato ed equipaggiato bene bene torniamo a casa andiamo a a Haywood ovviamente a casa del nostro fratello morto ovviamente dovremmo andare a Palmsview Plaza dove c'è un bellissimo bisturi che ha un sacco di roba tra l'altro ha una maglietta finissima che la vorrei dal vivo comunque sia iniziamo con gli iniettori di tirosina avrà i polmoni sintetici che serve il 16 di fisico per essere equipaggiato e il cuore supplementare stessa identica cosa quindi 16 di fisico per essere equipaggiato alla chiavetta del san davistan falcon militech mk5 che serve 20 di riflessi per essere equipaggiata e fa un sacco di roba c'è veramente enorme questa chiavettina qua e ha invece un network net driver mk5 che ha 11 ram di base 8 dimensioni di buffer e 6 slot non la più bella di tutte ma ovviamente ha anche tutta la possibilità di buttarsi su le braccia con monocavo lama da mantide braccia da gorilla e sistema di lancio proiettili tutte queste quattro sono leggendari e costano tutte più di 100 mila e di luna quindi se volete prenderle è molto molto costoso però è figo andiamo invece al centro della città ovviamente nel posto più in della città c'è il bistro di più in della città chiaramente che si trova proprio allo skyline republic proprio sotto allo skyline republic anzi all'interno di un mega edificio il nostro amico che poteva anche vestirlo meglio considerando nel luogo in cui è comunque sia a la possibilità di avere i vasi sanguini in bioplastica che serve 14 di fisico per essere equipaggiato inoltre per quanto riguarda la parte credo oculare sia questa non me lo ricordo mai se è comunque sia a il colpisce terrorizza che serve 16 di freddezza per essere per essere equipaggiato ed è veramente veramente figo perché spaventi i nemici tirando gli scarichi elettriche what va beh d'altro a le bellissime chiavette al san davistan warp dancer mk5 e la rasaka mk4 che ha 10 ram di base 8 dimensioni di buffere 6 slot inoltre come il visto di precedente alle quattro braccia intercambiabili quindi dal sistema di lancio di proiettili al braccia da gorilla mantide e il monocavo costano identico all'altro quindi sceglietene uno dei due per andare a comprare se volete penultimissimo si va a westbrook e bisogna andare esattamente agli appartamenti di lusso il bisturi è lì nelle vicinanze praticamente attaccato è una bellissima ragazza bellissimo un parolone così vabbè è una ragazza se volete farvi aprire da una ragazza comunque vi venderà il berserk mk5 e il threatatronic ripler mk4 che ha 10 ram di base 8 dimensioni di buffere 6 slot sono praticamente tutti uguali a parte il fattore di hacking che cambia ma questa bellissima ragazza ha ovviamente una cosa molto utile cioè l'esoscheletro in pratica che serve 20 di fisico per essere equipaggiato cioè l'ottimizzazione di segnale sinaptico e i polmoni bionici che serve 18 di fisico per essere equipaggiato ma se siete da corpo a corpo ma soprattutto siete quelli che sparano come me queste due cose sono veramente fondamentali ultimo ma non ultimo in prestigio ma così dobbiamo tornare a watson dobbiamo andare a creek loop perché è la teletrasporto più facile per cui arrivare al bisturi che vedete qua nelle immagini dal nostro amico credo sia o cinese o giapponese più probabilmente giapponese avrà i microrotori che serve 18 di riflessi per essere equipaggiato e ci aumenta ovviamente la velocità di attacco ha il coprocessore balistico leggendario questo se per caso non utilizzate le armi tipo skippy o comunque le armi smart è la soluzione migliore da avere perché ci fa rimbalzo dei proiettili in realtà è finita qua io spero di esservi stato utile questi sono tutti i leggendari cyberware che potete andare a ritrovare in giro per i vari bisturi ve li lascio come ho detto in descrizione anzi ve li ho già lasciati in descrizione se siete arrivati a questo punto del video io vi ringrazio e gg a tutti quanti